Centrale, sono lo sceriffo, novità? Stanno succedendo delle cose incredibili qui. Stanno arrivando richieste di intervento ogni momento. Ci sono un paio di persone morti all'istituto e stanno suonando tutti gli allarmi collegati con noi. Non riesco a capire quello che sta succedendo. Chuck Norris, terrore in città. Domani sera, 20.30, Italia 1.